La baia del silenzio di Sestri Levante è pronta per l'estate 2021, la gestione torna a mediaterraneo servizi come l'anno scorso, ingressi contingentati, postazioni fisse e sorveglianza. Matteo Viacava scelto alla guida del parco di Portofino, il primo cittadino del borgo indica le priorità per il rilancio dell'ente, la cura dei sentieri, la manutenzione e la sfida del parco nazionale. Trovata all'intesa per destinare quattro aule del liceo artistico Luzzati alle nuove classi del linguistico Davigo a Chiavari, saranno ricavate al piano terra con accesso di servato. L'amicizia delle persone è ciò che Monsignor De Vasini dice d'aver messo come prima cosa nella valigia per Chiavari, lo raccontano i casalesi che si preparano all'ordinazione episcopale di sabato. Torna l'Andersen a Sestri Levante, dal 10 al 13 giugno la 24esima edizione del festival dedicato ai bambini, spettacoli in presenza, tanti artisti e laboratori per famiglie e per i più piccoli. Torna questa sera la rubrica Sporti Guglio, il commento allo scudetto del Brescia, il campionato dell'arapallo pallanuoto femminile e le imprese di Alberto Razzetti agli europei di nuoto. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. C'è voglia di ripartenza e di tornare in spiaggia, di tornare al mare. L'accesso alle spiagge in molti casi sarà regolamentato come l'anno scorso. Accadrà così a Sestri Levante dove dal prossimo fine settimana riparte la gestione pubblica della Baia del Silenzio. Facciamo il punto nel servizio. Squadra che vince non si cambia, la pensa così il comune di Sestri Levante che per l'estate 2021 affida ancora la gestione della Baia del Silenzio a Mediaterraneo Servizi. La società in house si occuperà anche del controllo e degli accessi che saranno contingentati e possibili dai tre ingressi indicati sulla cartellonistica. Via Portobello, Vico Bayron e Piazzetta Stalli. Quelli di Vico Andersen e Via Cappuccini resteranno chiusi. Controllata dalle 8 alle 20 da personale qualificato, la Baia sarà suddivisa in apposite postazioni segnalate e organizzate per ospitare fino a 4 persone della stessa famiglia. Come lo scorso anno non si potranno prenotare, ma sul sito web sestrispiagge.it sarà possibile verificare in tempo reale la disponibilità di ogni arenile di Sestri. Non mancheranno le attenzioni per le persone con difficoltà motoria. Ai tre ingressi si potranno trovare una passarella e una sedia speciale che permetteranno di raggiungere la battigia ed immergersi in mare senza problemi. Ognuno dei tre settori della Baia avrà inoltre due postazioni dedicate ai disabili con pedana, sedie ed ombrellone. Siamo pronti per ripartire da questo fine settimana, spiega Marcello Massucco di Mediaterraneo. Una Baia da vivere è lo slogan che accompagnerà la bella stagione, una frase che metterà assieme attività culturali, sportive e naturalistiche, alcune a pagamento inserite in un'apposita brochure. Mediaterraneo Servizio Infine predisporrà un servizio di sorveglianza sulle altre spiagge libere del territorio comunale, tranne quelle di Sant'Anna, che avranno un presidio diverso che scaturirà da un bando per l'assegnazione di due locali nel parcheggio. Per tutte le necessità e le richieste sarà attivo un infopoint a Palazzo Negrotto Cambiaso, il numero verde 800 911 778 oppure il portale turistico di Sesti Levante. Dal mare ai sentieri il parco di Portofino avrà un nuovo presidente dopo un anno e mezzo di commissariamento scelto alla guida dell'ente Matteo Viacava, sindaco del borgo di Portofino. Tra le priorità indicate la manutenzione dei sentieri e sullo sfondo la sfida dell'attuazione della legge che ha istituito il Parco Nazionale. Sentiamo. Il mio cuore lavora già in ottica di cercare di migliorare questo ambiente bellissimo che la natura, che Dio ci ha donato e ci dà la possibilità di viverci e di viverlo. L'impegno perciò sarà un impegno massimo. Una sfida raccolta e da affrontare con determinazione e serenità, consapevole di una collaborazione che arriverà con tutte le realtà del territorio, in primis dagli altri sindaci. Per il primo cittadino di Portofino scelto alla presidenza del parco dopo un anno e mezzo di commissariamento dell'ente, sono tanti i temi che dovranno essere messi sul tavolo e affrontati per dare una scossa. Nell'immediato c'è subito la messa in sicurezza da fare, perché c'è da sistemare un po' di sentieri, comunque il personale sta arrivando al parco, cioè insomma subito la prima cosa sarà la messa in sicurezza per consentire ai cittadini, ai turisti di frequentare il parco nella maggiore tranquillità possibile. Via Cava che ringrazia per il lavoro svolto l'attuale direttore del parco Federico Marenco ha iniziato a elaborare un progetto di rilancio che vuole però condividere con tutti i soggetti interessati e nello spirito di collaborazione e di ascolto del territorio affronterà anche la questione della legge che trasforma il parco di Portofino da regionale a nazionale. Ne discuteremo democraticamente, come io credo che sia giusto, nei tavoli opportuni e valuteremo le cose migliori sul territorio. Io quello che posso dire io per esperienza, la poca esperienza che ho dal punto di vista amministrativo, a volte la cosa fondamentale non è tanto se sia regionale o nazionale. Io credo che sia che il controllo del parco deve rimanere sul nostro territorio, perciò a prescindere da tutto, ci vuole una governance che rimanga, la governance deve rimanere in Liguria. E prima di confermare la sua disponibilità il nuovo presidente ha chiesto anche rassicurazioni alla regione sulla disponibilità di risorse necessarie per effettuare gli interventi di rilancio. Sono state messe le risorse a disposizione per l'assunzione di personale, guardia parchi, operai che possono andare a manutenere e sistemare le strade, le croze, tutto quello che serve per mettere subito in sicurezza. La capacità di spesa ci è stata data, perciò credo che anche con questa possibilità qui abbiamo le possibilità di sviluppare dei progetti, di dare dei servizi e di migliorare il sistema parco di Portofino. Cambiamo tema, è stato raggiunto un primo accordo per destinare quattro aule del liceo Luzzati di Chiavari alla succursale del linguistico Davigo. Ieri c'è stato un sopralluogo da parte dei tecnici della città metropolitana, necessari adesso alcuni lavori per adeguare gli spazi che sono stati individuati. Vediamo. L'intesa è stata raggiunta tra la presidenza del liceo Luzzati di Chiavari e la città metropolitana di Genova. Quattro aule da approntare nell'ala destra del piano terra, tre riservate agli studenti delle nuove classi della succursale del linguistico Davigo e una per i professori. Verificata la fattibilità da parte della task force metropolitana diretta dall'ingegnere Davide Nari, ieri a questo proposito si è svolto un sopralluogo, alla fine si è deciso di percorrere la strada indicata dal dirigente scolastico Spaccini, che rispetto all'utilizzo degli spazi al terzo piano è stata definita meno penalizzante per l'ex istituto d'arte. Nel merito sull'accordo dovrà ancora esprimersi il consiglio d'istituto, ma il suo sarà solo un parere non vincolante. Nel più breve tempo possibile dovranno così partire i lavori di adeguamento degli spazi per arrivare pronti all'inizio del prossimo anno scolastico a settembre. Gli uffici tecnici hanno stimato un costo degli interventi intorno ai 150.000 euro. Oltre alle aule dovranno essere risistemati anche i bagni e il terrazzo e separati i percorsi di accesso da quelli degli studenti dell'Uzzati. Per il comune, proprietario della struttura, una soluzione temporanea che però risolve nell'immediato la problematica. Speriamo che sia l'ultimo anno che ci presenta questo problema e se questa pandemia verrà superata allora potremo anche fare dei ragionamenti un pochettino più distesi. Sono anche molto contenta perché comunque la cosa che a noi interessa di più sopra ogni altra è il diritto allo studio di tutti i nostri cittadini. Diciamo che comunque è anche una situazione temporanea, si chiede un sacrificio che però poi alla lunga verrà anche ridotto, tolto. Certo, questa è una situazione temporanea come abbiamo già più volte ripetuto e non soltanto è un vantaggio per il Davigo ma è un vantaggio anche per i Luzzati perché comunque è una situazione provvisoria ma i lavori che Città Metropolitana farà all'interno dell'edificio restano. Ci sono anche altre ipotesi che però non sono ancora state prese in considerazione per alcuni ampliamenti ma per quest'anno va bene così. Cronaca, un intero edificio di 20 appartamenti è stato fatto evacuare questa notte dai vigili del fuoco di Rapallo a causa di una fuga di gas. A dare l'allarme poco dopo le 23 un abitante di questo edificio in via Bozzo, siamo a Santa Margherita Ligure, messo in guardia dal forte odore all'interno della propria casa. Sul posto i pompieri che hanno iniziato a cercare l'origine del problema che si è rivelato ben più grave di quello che poteva sembrare. Di fatto il metano fuoriusciva da un tubo presente nel marciapiede davanti al palazzo, già oggetto di una riparazione nel corso del pomeriggio ma danneggiato anche in un altro punto. Così il metano è iniziato ad infiltrarsi nelle tubature della fogna di questo edificio fuoriuscendo dagli scarichi di ciascun appartamento, docce e lavandini compresi. Di qui la necessità di evacuare tutto l'edificio, alcune famiglie hanno trovato sistemazione in autonomia, quattro persone sono state invece ospitate in strutture a carico del comune. L'intervento di riparazione si è chiuso alle 5 di questa notte, non si sono registrati intossicati. Ora l'informazione religiosa, torniamo anche oggi a Casale Monferrato, questa volta per ascoltare la voce dei fedeli di Pontestura, dove Monsignor De Vasini è stato parroco e dove celebrerà la prima messa da vescovo domenica mattina. È tutto pronto per l'ordinazione episcopale di sabato. Sentiamo. L'amicizia delle persone, questo avrebbe messo per primo nella valigia per Chiavari Monsignor De Vasini, lo spiega un ex compagno di seminario sul giornale della Diocesi, La Vita Casalese, per mettere in duce lo spessore umano del futuro vescovo di Chiavari. E l'amicizia della gente che Don Giampio ha incontrato in questi anni, oggi si fa sentire nella cura con cui viene preparata la messa di ordinazione di sabato mattina nella cattedrale di Sant'Evasio. Alla fine i fedeli saranno accolti tutti dentro il Duomo, dove verranno installati sei maxischermi. I sacerdoti entreranno dalla porta di via Liutprando, dalle nove, i fedeli e le autorità dall'ingresso comunicato sulla prenotazione. Già domattina una squadra di telepace sarà a Casale per le prove tecniche della diretta TV. Domenica 30 il vescovo Giampio darà il saluto ricommiato ai suoi parrocchiani nelle messe del mattino, a Quarti e Pontestura. Sarà, lo immaginiamo, una festa carica di amicizia. È sempre stato anche per me un piacere quando concelebravo con lui ascoltarlo. È molto profondo, davvero è un prete che non annoia e sarà un vescovo che non annoia. Giampio ti ascolta e poi valuta e ti dà la sua interpretazione, la sua dicitura, quello che deve darti, i suoi consigli. I suoi consigli sono sempre molto, molto importanti. È un'intelligenza speciale, un'intelligenza grande che però si sa calare nella realtà quotidiana. L'umiltà di questa persona, la bontà di cuore e la sua capacità di avvicinarsi alle persone è straordinaria. Ho visto anche tanti amici e io stessa forse ritornare, non riavvicinarsi alla Chiesa proprio per il piacere e il bisogno anche di ascoltare le sue parole. Ricordiamo che la messa sarà alle 10 del mattino in diretta sui canali 15 e 515 HD di Telepace ma anche in diretta sui canali YouTube e Facebook dell'emittente e poi in streaming sul sito teleradiopace.com. Per i fedeli della Giocesi di Chiavari che invece parteciperanno in presenza e che hanno richiesto il pass per l'ordinazione episcopale sarà a disposizione un grande parcheggio a Casale Monferrato, quello di Piazza Castello che si trova a 300 metri dalla Cattedrale di Sant'Evasio vicino al Castello dei Paleologi. Nell'area di sosta ci sono posti liberi ma anche parcheggi blu a pagamento. Cambiamo argomento, torniamo a Sestri Levante. La 24esima edizione dell'Andersen Festival si terrà dal 10 al 13 giugno e sarà una delle prime manifestazioni nazionali in presenza del 2021. Questa mattina c'è stata la presentazione, decine di eventi gratuiti. A partire da lunedì 7 giugno le prenotazioni potranno essere effettuate sulla piattaforma Eventbrite a cui si potrà accedere direttamente dal sito andersensestri.it. Sentiamo. Sestri Levante si prepara a rivivere la magia dell'Andersen. Del Festival Andersen l'anno scorso era uno dei primi eventi in presenza. Anche quest'anno la presenza nel segno della sicurezza. Sicuramente sarà uno dei primi festival in Italia. Io credo dal 10 al 13 giugno abbiamo cercato di organizzare tutto con la massima sicurezza. Quindi gli spettacoli saranno a prenotazione per un numero massimo di persone. Anche tutto il personale che lavorerà al Festival in questi giorni seguirà un protocollo molto rigoroso. Però volevamo dare questo segnale di ripartenza. Questo segnale che si rivolge in primo luogo alle famiglie, ai bambini, ma non soltanto. Quindi avremo quattro giorni di spettacoli un po' in varie parti del territorio. Dalla Baia del Silenzio alla Baia delle Favole, all'Annunziata, al Conchiglia. Abbiamo cercato di riempire tanti spazi anche per consentire, visto i numeri più ristretti, di usufruirne. Tanti gli ospiti, dallo scrittore Stefano Massini a Margherita Vicario a una parte dei subsonica. Insomma avremo tanti ospiti importanti, tanto teatro per i ragazzi. Si riallaccia uno storico rapporto con Medici Senza Frontiere, che quest'anno compie proprio all'Andersen il cinquantennale della sua attività. E quindi organizzeremo dei momenti insieme. Il coinvolgimento delle scuole, anche se non in modo massivo, perché purtroppo anche ancora quest'anno non potremmo avere il corteo dei bambini, per ovvie ragioni, ma avremo un forte coinvolgimento delle scuole. E il sabato mattina la premiazione della FIABA. Quest'anno abbiamo avuto veramente tante favole. Si vede che le persone scrivevano di più, essendo più a casa, con la presidente di giuria Lidia Ravera e insomma con veramente tanti tanti ospiti. Quindi riteniamo che saranno giorni molto interessanti per Seste Levante e per la Liguria. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con le sport e gli aggiornamenti. Tragica responsabilità, questo è il titolo di avvenire sulla tragedia del Mottarone. I freni di emergenza della Funivia erano stati bloccati appositamente per evitare il fermo dell'attività. Confessa un tecnico arrestato il proprietario direttore che nega di aver autorizzato la manovra, la rabbia dei parenti delle vittime, mentre il piccolo Eitan torna a respirare da solo. Viducia da ricostruire, un inaccettabile baratto tra la vita e guadagni da non perdere. Il deficit culturale dalla Thyssen al Morandi, la sicurezza, non è una priorità in Italia. E poi andiamo all'udienza generale di ieri del Papa. Il gesto di Francesco per Lidia Maximovic, sopravvissuta da bambina al Lager di Birkenau. Il bacio sul tatuaggio dell'orrore. E ancora dalla prima pagina di avvenire, Baturi e Castellucci, i nuovi vicepresidenti della conferenza episcopale italiana. Passiamo al secolo XIX. La strage dell'avidità, funivia a mano messa per non eseguire lavori, stresa tra arresti, il freno di emergenza era disattivato da un mese. In carcere il titolare e il direttore responsabile in manutenzioni, la zia dei TAN assassini che pensano al denaro. E il commento di Michela Marzano, l'ingordigia uccide in un mondo senza più limiti. Uno dei fermati, il direttore, dirige anche l'impianto di Montallegro. E poi vediamo i controlli in Piazza dell'Erbe, il cuore della Movida genovese. Stop al coprifuoco nelle zone bianche, raggiunta l'intesa tra i presidenti di regione e il governo. E ancora giovanissimi a caccia di una vaccinazione nell'asl chiavarese. Stop ai cantieri sulla 12, tregua utile ma non basta, dicono gli operatori turistici del nostro golfo. E poi le nomine di Draghi, Ferrari sarà guida delle ferrovie dello Stato, un genovese al vertice del gruppo ferroviario, il premier esclude i partiti e il nuovo presidente è Luigi Ferraris, genovese, che porta anche lo stesso nome dello stadio di Genova, di Marassi. A proposito di sport, il calcio piange Roccia-Burnic, tra gli eroi d'Italia-Germania 4-3. Fu anche allenatore del Genoa in due occasioni. Veniamo nel nostro territorio, Portofino prende il volo, turisti in piazzetta, ma poi l'estate avrà anche le crociere. Linari, la prima nave è prenotata a inizio luglio. Speriamo che la pandemia finisca e Matteo Viacava, che vediamo in questa foto, sindaco di Portofino, pensa anche al suo ruolo di presidente dell'ente Parco di Portofino, che dice una risorsa grande da presidente realizzerò nuovi progetti. E poi mugugni per i cantieri sulla strada, la provinciale 227 da Rapallo a Portofino, ma i lavori sono importanti e indifferibili. Terminiamo con lo sport, il Reco non meritava lo scudetto senza fame, il talento non basta e dopo 14 anni vola in Lombardia lo scudetto di pallanuoto. Hernandez dice abbiamo commesso molti errori in tutte le partite di finale, così non si può vincere. Felugo, complimenti al Brescia, ma da parte nostra c'è davvero molto su cui riflettere. Subito in redazione con Andrea Capitani, a te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Andiamo a Rapallo, si chiama Iris, rifiorire nel cambiamento ed è lo sportello dove le donne vittime di violenza potranno trovare supporto, sostegno e una rete di persone pronte ad aiutarle nel loro difficile percorso. Lo sportello è stato inaugurato questa mattina nella sede dei volontari del soccorso di Sant'Anna a Rapallo. verrà attivato a partire dal 15 giugno per tre mattine a settimana, il martedì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 9 alle 11, il sabato dalle 10.30 alle 12.30. Sarà però sempre attivo 24 ore su 24 il numero di telefono a cui poter chiedere aiuto, lo 0185 30 99 12. I volontari del soccorso di Rapallo hanno messo a disposizione un ufficio di staccato dall'ingresso della sede della pubblica assistenza, proprio per garantire alla persona che ha bisogno di supporto il massimo della riservatezza. L'auspicio è che grazie a questo progetto sempre più donne vittime di violenza trovino il coraggio e la forza di denunciare e di iniziare questo percorso di rinascita. È tutto dalla linea. Grazie Andrea, concludiamo con lo sport e questa sera torna la nostra rubrica Sporti Guglio. Si parlerà di nuoto con Alberto Razzetti che ha vinto una medaglia di bronzo, una medaglia d'argento ai campionati europei di Budapest. Ci sarà anche Enrico Antonucci, presidente della Rapallo Pallanuoto Femminile. Ne vediamo un'anticipazione. Intanto è quello inquadrato, il nostro 22enne Alberto Razzetti. Alberto, complimenti per queste vittorie. Grazie, grazie mille. Sono molto contento di questi europei e mi danno molta fiducia per i prossimi appuntamenti che saranno le Olimpiadi. Ecco, una, i 200 misti, forse ci pensavi, ci speravi. Un po' la sorpresa sono stati i 400. Sì, i 200 misti sapevo di essere a un buon livello, di potermi giocare qualcosa di importante. I 400 invece è stata un po' una sorpresa perché è stato un po' deciso come prova per fare questa gara che era un po' che non facevo e invece alla fine è venuta fuori un ottimo risultato e questo mi dà ancora più fiducia. Ecco, adesso ti stai preparando per le Olimpiadi. Sì, esatto. Adesso è iniziato la preparazione per il finale per le Olimpiadi che saranno a fine luglio e non vedo l'ora di poter partecipare e dare il 100%. Ecco, questa preparazione che cosa consiste? Quante ore di allenamento fai? Io faccio quattro doppie alla settimana e tre palestre alla settimana, quindi sono tante ore di allenamento, però per un obiettivo così grande ne vale la pena. Ecco, prima di salutarci l'appuntamento a questa sera in Sporti Guglio, vuoi salutare tutti i tuoi tifosi nel nostro comprensorio che sicuramente sono tanti e soprattutto dalle parti di Sestri. Sì, certo, certo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito in queste gare, che comunque ho visto che mi hanno mandato tanti messaggi, ho visto che mi ha fatto piacere che molta gente mi abbia seguito e quindi ringrazio tutti e vi saluto. E soprattutto anche i tuoi tifosi, insomma, la tua famiglia, i tuoi genitori. Sì, sì, certo. Loro sono sempre i miei primi tifosi, quindi li ringrazio sempre. In corsia 5, il nostro Alberto Razzetti, leggermente attardato da Gonzales de Planch, va per il podio, terza posizione per Alberto Razzetti, medaglia di bronzo! Appuntamento alle 21.10 sul canale 15. Noi ci ritroviamo con il telegiornale questa sera alle 19.15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!